Ma l'esplosione dei centomila spettatori si è verificata quando l'americana Rudolph, nella finale dei cento, ha demolito il record del mondo segnando undici secondi netti sulla distanza. Rivediamo il miracolo a rallentatore. È una pagina inimitabile di bellezza agonistica e tecnica. Rudolph scatta. All'esterno Giuseleone tiene stupendamente in progressione. L'inglese Hyman e la russa Itkina minacciano l'italiana. La Rudolph corre come una giovane pantera, non ha rivali, domina. Ai 70 metri tutti gridano a Giuseleone in un boato. L'italiana ha un ritorno forsennato, liquida la russa, è terza in bellezza. Erano quasi 30 anni che un'italiana non vinceva una medaglia in gare di corsa.